musica 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 chi è questo cantore che ha fatto su un gill? chi è Danny? beh no Mario Mario Morge e minca fate pizzo musica ma che c'ho però dai vabbè manca guarda che c***o oh andriamo copri restato con me siamo in due ma sono spattivo così ma che sono buggata la ma ho cappottissima vita è andata all'aieste oh è uscito oh 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 abbassati 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 ho fatto un buco e barricata dentro è barricata come una poca io lo sto io sto registrando ora mi insegno a registrare ogni clip ho registrato tutto ciò che ha fatto andrea è quando non gli entrava nicotti a quella buttata a sinistra vedete insul treno ok perfetto lei vista non la spottare non la perchè è vestita lì a bocola a bocola rimangono scemo spara guarda la capo però ragazzi cazzo se vedi che sapete che ammazzate il primo allora già da qua si vede che state giocando e state giocando a cazzo di mi dica ma nea cazzo di cane proprio perché si vede d'acqua che non state attenti manca la sponfield asce a minchia fra ma se c'è ma c'è un modo che ciò però alle 6 minuti per le direi per fiori di galle vincenzo manco parla più a motivo non parla che scemo perché poco fa mi ammazzò in caccia terroristi e poi l'ho ammazzato due volte che mi voleva cercava sempre di ammazzarmi allora gli schiacchiavo il figlio della stanza barricate però piccioli viaggiate tutti i cuori e lo spinato piazzato mancano dieci secondi dovevo prendere il c4 però non lo faccio vai ho messo questo scudo vi c'è ma il scudo è buono ammettere il nemico ha individuato il cosiddetto ho troppo avanti oh io ho barricato la vedi con le due vai metterlo così e per non fare passare il twitch l'ultimo nemico è rimasto sono dimenticato di avere la gesta di distrazione sono un coglione non mi ha fatto quei viaggi certi per loro non c'è andato non c'è andato è messo le spalle al muro sta abbassando le spalle al muro oh guardate vabbè c'è la c4 è questa terminata lei mi prende lei mi prende io no in genso di lemma pupu oh bichio vabbè un gudem quello esce non mi spunta il coso ma siamo seriii cristo ecco vabbè ma quello fa ma cheee vabbè ha vabbè vabbè tic vabbè vabbè ma perché se ti entra da una parte tic vabbè quattro ma scegliamo non mi capisco che non muore mai questo carica grappolo pronta aspetta sarà mi dobbiamo richiudere cosa è da un acciugno e dai e dai e dai ecco che cazzo è un po' bello lui è una casa sputtata oooooh oooooh ooooh 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 è in stanza tu lo senti perchè è in stanza ma che vieni a che fa aìa aia aia non è sicuro il drone mancano 15 secondi è tutto quanto a sinistra 5 secondi tornate a occuparmi del contenitore dopo averne neutralizzato la minaccia hai da così vedo il divano vabbè no ma lo stasi in testa un po su migliori spiocano migliori vengono e vincente fatelo chiede guardare il senso di sicuro cosa sono infatti vedere su un piano però ragazzi aiutatemi dai se non mi aiutate però raga forza di non mi aiuto male che non mi buttano cinquanta minchia ma buttano cinquanta minchia ma fate più attenzione certo io sarei sui telepadu lo faccio in albino e cinquanta che vuoi? io che ammuzzo che vuoi che ti dico io? io che ammuzzo io a casa io ti sto dicendo solo fate più attenzione aiutate mi sto giocando solo io entrate io che? chi chi lascia? no un po' come se ti dice lo ha fatto eh non buttano ci faccia il popolo ma non buttano le barricate io mi ho fatto a metterli davanti alle barricate i tuoi mangiamento mi voleva prendere uno stunno stavo 40 cagati guarda ma poi io finito e non vengo quindi ci sono quello spinate cosa stai facendo andré? Il glitch è quello per avere le conseguenze Certo, occo Certo Andiamo a buttare 9, buttane 3 Buttane 3, buttane 3 là Il drone nemico ha individuato il contenitore di mio orecchio Basta, stai malamiche Oh, barricate Barricate qua Tu sei scemo, vieni qua sopra, coglione Questo lo ha con me Piazzo il tappeto C'è qualcuno? Andrea Manici no, mi fai compagnia Ma sai come ho voluto parare il culo? Proprio, non mi stampi Ma che cosa, basta mani a mano Bello, bello, bello Ma, miglia Ma, granando, più granando Adesso, link Digatore Che giorno Vincenzo 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 Un operatore alleato rimasto Siamo a 15 secondi Oh, giusti 10 secondi Vincenzo Inizio Vincenzo Ii Sudi Mi fai Fin Questa Chiuso I Ma riusci Già I Cic Non Da Cam S sch Sono cosa allora erano e la ecco è quell'altro due tecniche ai legger vabbè che sto neanche mamma c'è una macchina di conti uno che ora non lo so è ammocciato come poco ma forse dietro con etteria con etteria l'altro è l'abbietro tiraccino a nascendante ma non c'è tanta dronate pizzo dronate ci sono un minuto e 46 vabbè è l'uomo è l'uomo è l'uomo non è stato non è stato è stato le mangi no 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 tipo avvicino allo scudo così rompi il ben non proprio addosso alla scuola ma dov'è? vai 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 luca l'ultimo uomo per la squadra alleata l'ultimo uomo è telepatico è telepatico sono noi due dieci secondi manca da cinque secondi mani tutti quanti come coglione mani rimango sempre io e quando vai barricate la tante ma è siamo mancino mancino guarda a me mancino guarda a me non capisco oh gelato oh gelato dove sei luca a voi una mentina a voi una mentina tipo sono quelle là tipo acide tipo con le aspre sono verbi da voi provano che sta fuori mi senti a cavera piazzamento muro rinforzato che glad non vi sporgiate è la finestra qua che cosa è andato? mi sento è un pericolo devo cambiare il caricatore e lascio moto 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 ma grazie sto sciamone di grazzo vivo l'ultimo nemico rimasto manca a dire manci veramente non lo sapevo trappola siccome ho visto da creare il gol che adesso lo levava che cosa mancino la chi di merda ancora sponchile fanno e non muoiono ancora sponchile fanno gli spari in destra e non muore questo è il deletto questo qua è rainbow questo qua è modificio ciao one cup ah certo che era Danny ah Mario mod finchia però ah mi c'è sta facendo schifo mi c'è aia ah non scusate come da i am da i am ah aah 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 c'è non lo spetta muccavo non c'è che so aah non c'è che so aah 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 ma dov'è dov'è sta buttana è là sotto dritto là o nelle scale no 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 dritto mamma risposta bello no 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 oggi c'è in positiva oh c'è in positiva oggi è sta mattina perchè poi la c'è fa schifo di roba minca ma hai visto a battine 15 secondi 15 secondi andrea mi chiede parole da muove lui 10 secondi sono uomo per la squadra alleata no cosa vabbè vabbè mira è baggiata chi va chi va chi va chi va chi va chi va ma guarda ma come fa mattina ma si va si va si va e si va si va il nemico è individuato il contenitore di più rischio le granate ormai non fanno più un problema hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore aiutiii oh ma c'è in più di un bufana 18 kill ieri 11 io 18 ma che minchia di mostri siamo io player onestamente però pure mancino ammò che non come non c'è un po' che non sta giocando bene c'è una copponcola ecco pompa e la grande della reddita pari anche di ciò pombo di boccia 4 ma non c'è tu cammini la madre l'inferno 15 secondi non lo fai entra, non lo fai entra, non lo fai entra il tempo scade tra 10 secondi vittoria alla difesa, nemice lina madonna madonna e il tuo record da chi fa? si, per ora si io sono 22, però non mi potevi dimenticare mai la mappa la mappa si vende era madonna mosso 8.800 e 8.662 punti quando mi capita oh, che cazzo mio c'è un'altra me ne se non mi da il pacchetto come l'ha dato mi e e e Grazie a tutti